Ciao a tutti, sono qui per darvi delle novità, incredibili sulle prossime avventure di Terramara. Dove Fikaret, un personaggio chiave, si scontrerà con Demir e cercherà di rovinare suo padre Adnan. Fikaret farà di tutto per distruggere Demir, lo minaccerà, lo danneggerà nella sua fabbrica di latte e, gli rivelerà un segreto sconvolgente, Adnan era suo padre. Fikaret odia Demir perché Adnan ha abbandonato lui e sua madre. E Fekeli, suo zio, cercherà di fermarlo e di aiutare Demir. Ma riuscirà a scoprire chi lo ricatta? Non perdete le prossime puntate di Terramara. E iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video. Ciao. 1. D. 30. Riscrivilo più lungo inserendo nel dettaglio i particolari del racconto ed anche le emozioni i personaggi si chiamano i Fikaret, Fikli, Mujgan. Ecco una possibile riscrittura più lunga del testo. Salve a tutti, amici di Terramara, il canale dedicato alla vostra soap opera preferita. Oggi vi racconteremo delle anticipazioni che vi lasceranno a bocca aperta sulle vicende che vedranno protagonista Fikaret, un personaggio che avrà un ruolo cruciale nella storia. Fikaret è il nipote di Fekeli, il rivale di Demir, e ha un conto in sospeso con suo padre Adnan, che lo ha abbandonato quando era piccolo insieme a sua madre. Fikaret nutre un profondo odio per Demir, il figlio di Adnan, e farà di tutto per rovinarlo e vendicarsi. Fikaret inizierà a mettere in atto il suo piano malvagio, minacciando in modo anonimo il figlio di Demir, che si troverà in pericolo e terrorizzato. Poi, approfitterà della morte di Yilmaz, il marito di Mujgan, per accompagnarla a Istanbul e consolarla. Al suo ritorno a Kukurova, Fikaret si recherà, nella fabbrica di latte di Demir, dove aprirà i rubinetti. E causerà un grave danno alla produzione. Ma non riuscirà a scappare indenne dalla sua azione. Perché Fekeli lo scoprirà e lo affronterà furioso. Fekeli gli chiederà spiegazioni sul perché si comporta così. Con la famiglia di Demir e gli chiederà di smetterla. Ma Fikaret non si arrenderà e gli farà una rivelazione scioccante. Adnan, il padre di Demir, era anche suo padre biologico. Questa verità sconvolgerà Fekeli, che non sapeva nulla. E lo spingerà ad ascoltare il racconto di Fikaret, che gli parlerà della sua infanzia difficile e della sofferenza. Provata per l'abbandono del padre, Fekeli gli dirà che odia Demir perché è il figlio prediletto di Adnan, che lo ha riconosciuto e gli ha dato tutto. Mentre lui è stato ignorato e dimenticato. Fekeli cercherà di capire il dolore di Fekeli. Ma gli farà capire che non è giusto far pagare a Demir. Gli errori del padre e che la vendetta non porta a nulla. Nel frattempo, Demir chiederà aiuto a Fekeli per scoprire. Chi lo sta ricattando in modo anonimo e mettendo in pericolo suo figlio. Ma Fekeli si sentirà in difficoltà tra la lealtà verso Demir. E l'affetto verso suo nipote Fikaret. Come andrà a finire questa storia? Lo scoprirete nelle prossime puntate di Terramara. La sopopera che vi appassiona e vi emoziona. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. E iscrivetevi al canale per non perdere le prossime anticipazioni. Ciao a tutti e alla prossima.